Benvenuto su Scelta del prodotto. In questo video daremo un'occhiata a miglior macchina da caffè. Ho stilato questa lista basandomi sulla mia ricerca e opinione personale e ho cercato di catalogarli in base al loro prezzo, qualità, durata e altro. Se vuoi conoscere il prezzo e saperne di più su questi prodotti, puoi visitare i link nella descrizione qui sotto. Bando alle ciance, cominciamo con la lista. Cominciando la nostra lista con il numero 5, abbiamo dei longhi. La EC201. CD.B è una macchina facile da usare che combina le funzioni di una caffettiera e di un sistema per cappuccino, rendendo possibile preparare sia l'espresso che il cappuccino con la semplice pressione di un pulsante. Il serbatoio dell'acqua rimovibile ha una capacità di un litro per un comodo riempimento e pulizia. Il portafiltro si adatta a tutti i filtri di carta di dimensioni standard, permettendoti di scegliere la tua miscela preferita di chicchi di caffè. Un dosatore di bypass integrato permette di preparare due diversi tipi di bevanda con una sola pressione del pulsante. Perfetto per chi ama la varietà. Ti sei la macchina che ho usato quando ho scritto le mie recensioni delle capsule Nespresso e Starbucks. Anche se penso ancora che facciano un ottimo caffè, questa macchina ha dimostrato di essere più versatile e indulgente quando si tratta di macinare e pressare. Numero 4. Nescafe dolce. Macchina manuale per caffè espresso e altre bevande in capsula Nescafe dolce gusto con pompa ad alta pressione. Dimensioni 28 x 15 x 37 cm. Serbatoio rimovibile da 1.2 L con caricamento dall'alto. Funzione boat e cold per preparare con facilità bevande calde o fredde. Assapora le oltre 30 varietà di espressi e alt. Ordina semplicemente le tue capsule dolce gusto preferite in molti dei principali rivenditori. Serbatoio dell'acqua refill. Vaschetta raccogli gocce facilmente rimovibile per la pulizia. La pressione della pompa è di 15 bar. Diametro 7 cm. Serbatoio dell'acqua rimovibile da 1.2 L situato sulla parte superiore del dispositivo. Si ottengono bevande calde e fredde. Basta premere un pulsante. La funzione automatica permette di preparare bevande con espresso o caffè in cialde con un solo tocco di un pulsante. 3 gradi posto c'è dell'onghi dedica. Questa macchina per espresso dell'onghi è compatta, tutta in metallo e facile da usare. La macchina per espresso a pompa dedica ha una larghezza di 15 cm ed è dotata di un cappuccinatore per montare facilmente il latte. Il portafiltro è progettato per l'uso con caffè macinato o cialde S e la macchina ha un serbatoio d'acqua trasparente da un litro che è facile da riempire e pulire. La dedica ha anche una funzione flow stop per personalizzare la lunghezza dei vostri colpi di espresso, lo spegnimento automatico dopo 9 minuti di inattività e l'altezza regolabile beccucci del caffè. Questa macchina per caffè espresso dell'onghi ha una dimensione compatta che è ideale per qualsiasi piano di lavoro della cucina. L'unità misura 15 da 10 da 12 pollici e pesa solo 9 libre. Numero 2. Krups Vertuo Plus. Stai cercando una macchina da caffè versatile che possa soddisfare tutte le tue esigenze? La macchina Vertuo Plus di Krups ti copre con le sue 5 dimensioni di tazza e il funzionamento con un solo pulsante. La tecnologia di centrifugazione estrae sapori e aromi ricchi per una tazza di caffè di alta qualità ogni volta. E se le impostazioni hanno bisogno di un piccolo ritocco, la regolazione automatica delle capsule se ne occupa. Mantenere le cose semplici con Vertuo Plus di Krups. Video Vertuo Plus di Krups prepara una varietà di caffè in capsula per ogni palato. TV Vertuo Plus di Krups si riscalda in due minuti e ha impostazioni regolabili per personalizzare il tuo caffè. Vertuo Plus di Krups eroga direttamente in un elegante caraffa di vetro per un facile servizio. Usa il cassetto di stoccaggio delle cialde per tenere le capsule usate fuori dalla... Fine, il numero 1 della nostra lista, DeLonghi Nespresso. La macchina da caffè DeLonghi Nespresso Vertuo Plus con tecnologia Centrifusion T offre un caffè perfetto ogni volta. L'innovativa tecnologia del codice a barre legge il codice su ogni capsula e regola i parametri di volume d'acqua, temperatura e tempo di estrazione. Vertuo Plus è facile da usare, basta premere un pulsante, ed è dotato di una funzione flow stop in modo da poter programmare la dimensione della tazza desiderata. Il sistema di espulsione automatica delle capsule significa nessun disordine o confusione, e il ripiano regolabile in altezza ospita tazze e bicchieri alti. Con un sistema di estrazione brevettato Centrifusion, il Vertuo Plus offre un caffè delizioso in ogni tazza. Il primo dice benvenuto e scivola sotto la macchina quando la si tira fuori dalla scatola per proteggere il piano del tavolo da graffi, una volta che la macchina è in dove si toglie il tappetino di benvenuto. Per sempre, troverai tutti i link di questi prodotti nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato questo video. Se l'hai trovato utile, allora metti mi piace e condividilo. Inoltre non dimenticarti di iscriverti al nostro canale per vedere altri fantastici video come questo. Ciao! Ciao!